Benny Caiola era un collezionista italo-americano così importante che hanno dato il suo nome a un hypercar. Nato nel 1930 nel paese di San Fratello a Messina, emigra negli Stati Uniti dove è riuscito a fare fortuna grazie al boom immobiliare. È diventato un imprenditore di successo ma soprattutto, secondo Forbes, il proprietario della collezione di Ferrari più esclusiva. Ed era sicuramente un uomo longimirante perché la mossa giusta l'ha fatta diventando amico di Orasio e primo proprietario di una Pagani Zonda. Oltre ai rispettivi interessi economici di costruttore e collezionista, Orasio e Benny erano legati da un sincero rapporto di amicizia. Motivo per cui la seguente hypercar è stata chiamata Waira BC, le iniziali di...